Musica Buongiorno a tutti, ci troviamo a Soveria Mannelli Oggi 6 maggio si terrà la seconda tappa del calendario della decima edizione di Onda d'Urto Onda d'Urto cos'è? Onda d'Urto nasce nel 2009 come movimento spontaneo in realtà quest'anno si è trasformata, si è evoluta, dandosi un riconoscimento diciamo formale quindi si è trasformata in APS Onda d'Urto Calabria rappresenta più di 60 associazioni calabresi tra gruppi e associazioni dislocate in tutte e 5 le province Quest'anno il calendario prevede delle tappe che si terranno presso località prestigiose, altisonanti, conosciute, molto note ricordiamo, anticipiamo quella di Polsi, un'altra si terrà nelle serre Catanzaresi poi avremo Locri Gerace e poi a finire poi abbiamo un'altra si chiesiterà nei siti Arberesci nelle zone di Lungro e dintorni cosa dire? Intanto porgiamo i nostri saluti e ringraziamenti al sindaco di Soveria della città di Soveria per aver accolto la nostra proposta, offerto la sua collaborazione ovviamente anche il nostro ringraziamento va all'associazione che ha organizzato questa manifestazione in realtà si sono attivati, hanno fortemente voluto questo evento e l'hanno curato nei minimi particolari a cosa dire? Un saluto va a tutti noi, a tutti i partecipanti, a tutti i presenti e auguro a tutti una buona giornata e speriamo bene, a risentirci a più tardi magari Grazie 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 Grazie